Tutti la firma su un pareggio in trasferta contro la squadra considerata da un po' tutti gli addetti ai lavori la più attrezzata per tentare il salto di categoria. Missione compiuta dunque anche perché di questi tempi uscire indenni dal Tardini è impresa tutt'altro che agevole. Ancor più se si considera l'avvio di gara tutto in salita per la squadra di Conte già sotto dopo 8 minuti. Angolo di Budel, colpo di testa di Falcone, sulla linea forse c'è il tocco di Pisano che crea qualche dubbio sulla paternità del gol. Parma che insiste e potrebbe andare a raddoppio prima con l'incornata ravvicinata di Cristiano Lucarelli e poi con la botta dal limite di Zenoni ben neutralizzata da Gillet. Dopo 20 minuti di assedio dei padroni di casa il Bari finalmente tira fuori la testa dal guscio trascinato dal solito Camatà. Dal suo piede parte l'assist che né Colombo né Barreto riescono a deviare a rete ma la pressione bianco-rossa aumenta nella metà campo emiliana ed ecco ancora Camatà ottimamente imbeccato da Colombo costringere Pavarini all'atterramento in aria. Perfetta l'esecuzione dagli 11 metri di Barreto al suo quinto centro stagionale con la maglia del Bari. Sul finale del primo tempo la decisione che fa andare Conte su tutte le furie. Colombo si avvia verso la porta del Parma e viene steso da Falcone. Il difensore è l'ultimo uomo in quel momento e da regolamento dovrebbe essere espulso ma il signor Valeri, giovane fischietto della sezione romana, opta per un più salomonico cartellino giallo. Questo è il commento del tecnico barese. A di che recriminare anche il Parma nella ripresa. Lucarelli va a rete ma la sua azione viene fermata dall'indicazione del Guardalini che probabilmente aveva segnalato una posizione di fuorigioco dell'ex attaccante del Livorno. La squadra di Guidolin vicinissima al nuovo vantaggio alla mezz'ora fortuna che Castellini la tocca piano proprio nel 2x2 con Gillet. E nel finale il Bari rischia grosso con questo errato retropassaggio di Salvatore Masiello. Esposito si immola per la causa barese e si fa espellere pur di impedire a Lucarelli di andare in fuga verso la porta. Un'assenza pesante la sua in vista della sfida di sabato prossimo al San Nicola contro l'Ancona del capocannoniere del torneo Mastro Nunzio. Ma intanto c'è da essere soddisfatti. Il Bari al quarto risultato utile di fila resta in piena corsa per i play-off.